Incidenti sul lavoro, purtroppo altri due morti, nonostante il lieve calo della prima parte dell'anno, numeri sempre troppo alti. Stava tagliando una lamiera, quando all'improvviso ha perso il controllo del macchinario, ferendosi una gamba e recidendosi l'arteria femorale. È morto così un operaio di 53 anni, originario di Sava, in provincia di Taranto, dipendente di una ditta metalmeccanica. L'incidente è avvenuto all'interno di un capannone a Taranto, intorno alle 8. A Farneto di Tortorella, in provincia di Salerno, un operatore agricolo di 48 anni è finito sotto il trattore sul quale lavorava, che si è ribaltato a causa del terreno scosceso. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'INAIL, sono 463 le persone morte sul lavoro nei primi mesi del 2022. Il lieve calo rispetta i primi sei mesi dello scorso anno, ma i numeri sono sempre troppo alti. Il vicepresidente nazionale dell'ANMIL, l'associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, Fortunato Cassini. Devono intervenire in maniera coordinata i servizi di ispezione, i servizi di sicurezza interna delle aziende. Aumentare la prevenzione vuol dire prevenire i danni e gli effetti luttuosi.